Ben ritrovati cari amici, vedete dall'immagine di videocopertina tema odierno dedicato al tennis, la straordinaria annata dell'anno che sta per concludersi, quindi il 2024, ma prima come il mio solito fare un piccolo cappello introduttivo, è arrivata la notizia pochissimi giorni fa riguardo alla pressoché diciamo manca solo l'annuncio ufficiale di Michele Posa e di Luca Franchini per quanto riguarda la visione in chiaro su D-Max canale 52 del digitale terrestre, per quanto riguarda l'ultimo Big Four della WWI, ovvero Survivor Series World Games 2024, come data vi ho letto in qualche sito di informazione dalla disciplina italiana, cioè dalla disciplina ovviamente con notizie italiane che dovrebbe essere la visione serale sabato 7 dicembre all'ora 21.20 circa, ma seguiranno aggiornamenti su questi ovviamente e ci aggiorneremo. Bene, veniamo al tema principale del video odierno, ovvero le innumerevoli vittorie a tinte tricolori italiane nel 2024 da Sinner, alla Coppa Davis, alla Billie Jean King Cup 2024 femminile, i successi quindi anche di Jasmine Paolini, Darderi, Berrettini, Sonico, Bolelli, Vavasori e Rani, per andare, come si dice, a citarli, per esempio Sinner, ha iniziato i suoi traguardi annuali già a gennaio con le Australian Open, singolare maschile, Luciano Darderi ATP 250 di Cordoba, Yannick Sinner ATP 500 di Rotterdam, Sinner Master 1000 di Miami, Berrettini ATP 250 di Marrakesh, Sinner ATP 250 di Gustad, Berrettini ATP 250 di Kitzbühel, Sinner Master 1000 di Cincinnati, ATP 250, Wistom Salem Lorenzo Sonego, Sinner US Open, Sinner Master 1000 di Shanghai, Sinner ATP Finals, doppio maschile, Bolelli, Vavasori ATP 250 di Buenos Aires, Bolelli, Vavasori ATP 500 al, Bolelli, Vavasori ATP 500 al, Pechino, Sincolore Femminile Jasmine Paolini, WTA 1000 Dubai, Sara Errani Jasmine Paolini, doppio femminile WTA 500 Lins, Sara Errani Jasmine Paolini, WTA 1000 Roma, Sara Errani Jasmine Paolini, WTA 1000 Pechino, doppio misto Sara Errani Andrea Vavasori US Open, e per finire in bellezza questo 2024 le competizioni a squadre, Belli, Gene King, Kappa Paolini, Errani, Bronzetti, Cociaretta e Trevisan, Coppa Davis, Sinner, Berrettini, Musetti, Bolelli e Vavasori. Quindi davvero un 2024 tennistico tricolore da incornicare sicuramente a riconfermarsi anche nel 2025. Non è impossibile ma c'è bisogno a continuare a lavorare duro, soprattutto in queste settimane già di preparazione per la stagione 2025 che come sappiamo inizierà dalle terre oceaniche, polari in Australia, Auckland, Sydney Australian Open. Bene, noi ci vediamo nei prossimi video, sapete gli aggiornamenti costanti Whatsapp, Youtube, Instagram e Facebook. Ciao!